Grazie a tutti. La programmazione e lo sviluppo del territorio cercando di dare occasioni lavorative ai nostri imprenditori agricoli. Noi siamo pronti con i bandi che a breve verranno emessi e questa vocazione della nocciola potrebbe essere una riscoperta del territorio. Io mi ricordo da piccolo che delle piccole produzioni di noccioline da queste parti si sono sempre fatte. Certo non c'è mai stato un input perché questo diventasse un sviluppo di tipo industriale, quindi ad alti livelli. L'occasione di oggi, ascoltando la Ferrero che sembra impegnata a produrre e a incentivare la produzione della nocciola in questi territori, potrebbe essere un input per i prossimi bandi nostri e soprattutto un'occasione di sviluppo per il nostro territorio.